Arrivi a buongiorno e benvenuti in questo unissimo video, io sono Alessia e oggi sono qua tornata con un nuovo video Nel video di oggi vi mostrerò praticamente i miei outfit nel corso della settimana Gli outfit con cui vado a scuola, perché così avete un'idea di quello che io indosso e generalmente Anche avete delle idee su cosa mettervi Tra l'altro vorrei dirvi di seguirmi su Pinterest, trovate il mio nome nella descrizione ma ve lo scrivo anche qua Perché inizierò a postare delle foto dei miei outfit là, però una baccheca apposta per questo E ci scriverò nella descrizione tutti i negozi dove ho comprato ogni capo, ogni singolo capo Visto che sennò poi me lo chiedete sempre, eccetera, almeno avete una baccheca con tutti i outfit invernali e estivi Dipendendo dalla stagione in cui siamo E nulla, quindi spero che vi piaccia E niente, praticamente io ho registrato da lunedì a sabato i miei outfit perché appunto la domenica io non ho a scuola Non so voi, scherzo, nessuno ha scuola la domenica E nulla, vi lascio il video perché ho già parlato anche troppo Ok ragazzi, giorno 1, vi faccio vedere appunto il mio outfit, in realtà lo state vedendo già A parte lasciate perdere il casino, però dettagli e anche il rumore del ventilatore ma è veramente caldo oggi Allora, sono prima di tornare da scuola perché vi registrerò le clip quando torno a scuola Perché uno la luce è meglio perché alle 6 è ancora scuro E due perché alle 6 non potrei parlare alto quindi proprio sarebbe fastidioso E allora, questo è l'outfit, ho messo questi jeans qua che sono dei jeans skinny di Bershka Appunto molto molto belli con la loro cinta insieme Cioè ci ho messo proprio la cinta che sono venuti con questi jeans che in genere non la metto mai Però quella con i buchi non mi piaceva tantissimo e volevo mettere comunque una cinta Cioè nel senso non credo che con questi pantaloni qua quella con i buchi ci stia troppo bene E quindi ho messo la loro cinta proprio E poi come maglietta ho messo questa qua che ha dentro, diciamo dentro i pantaloni Ma adesso ve la tiro fuori così vi faccio vedere che maglietta è Ecco qua Ora si è un po' diciamo tutta mezza spiegata qua perché comunque l'ho messa dentro i pantaloni Quindi si è tutta mezza accartocciata E questa maglia qua che ho scritto Mexico e c'è proprio tipo questa figura credo del Messico Oddio Alessia c'è proprio una fantasia bellissima E questa qua l'ho presa da Terra Nova E nulla, bellissima Questa maglietta c'è nel senso da un tocco di colore di più all'outfit Vedete? E sotto ci ho messo le vans che adesso non so dove siano Mi sa che sono di sotto Brava E poi vabbè il mio zaino E niente, oggi non mi sono messa accessori niente perché me sono svegliata tardi Cioè me sono svegliata alle 6 e mezza dovevo ancora prepararmi tutta, truccarmi i capelli eccetera Quindi ho fatto in tempo praticamente a mettermi solo l'Apple Watch E nulla ragazzi questo era l'outfit di oggi, ovvero il primo outfit del video Noi ci vediamo domani con il prossimo outfit Buongiorno a tutti Questo è il secondo giorno mi pare Sono un po' stressata perché sono stanca Quindi lasciate perdere Sono legata ai capelli perché fa un caldo alla miseria Oggi sono appena tornata a scuola Contatevi sono le 2.20 e sono arrivata adesso Quindi potete capire che ho fame, ho sonno, tutto quanto Quindi scusatemi Sono un po' sarcastica adesso Allora oggi l'outfit è stato molto semplice Ho messo i leggings neri, dei leggings neri Sì, i miei calzetti sono bellissimi, rosa E con vabbè sotto le vanze sempre Leggings neri E poi ho messo questa maglia Che è di Terranova Nella parte maschile Che dietro ha questo dettaglio Sto cercando di farvela vedere Però vabbè sì Bianca, se no normale Solamente dietro c'è quella roba lì E niente, questo appunto è l'outfit del secondo giorno I leggings me li ha fatti mia nonna Quindi non vi posso dire dove li ho comprati Perché appunto me li ha fatti lei Noi ci vediamo domani Buongiorno Allora, questo è il giorno Non mi ricordo che giorno sia Scusatemi Allora, l'outfit di oggi è stata Questa maglietta qua Adesso io l'ho legata dietro Così a caso Però ce l'avevo dentro i pantaloni Comunque questa maglietta qua Che avete già visto Oppure no, non mi ricordo Vabbè E questi jeans qua I jeans sono di Bershka Mentre la maglietta è di Terranova E niente, questo è stato l'outfit Di oggi Molto semplice E chiaro Strano ma vero Però vabbè Scusatemi i capelli legati Ma è che appunto Sta facendo caldo E anche il ventilatore è acceso Perché è caldo Allora, oggi sono andata a scuola Con questo outfit A parte i miei calzini bellissimi Gialli Fluo Vabbè comunque c'erano le scarpe Quindi non si vedevano Bellissimi Allora, come maglietta Ho usato questa qua Di Terranova Molto carina Col drago Vabbè Me l'avete già vista indossare Quindi vabbè Buona E poi questi pantaloni qua Questi jeans a vita alta Strappati qua Sulle ginocchia Di H&M Con questa cinta qua Di Bershka Mi pare che l'ho comprata là Se non mi sbaglio Sì, credo proprio di sì E niente raga Questo appunto è stato l'outfit Ah, e stamattina Ho messo anche la felpa della K Che è qui per terra Bellissima Alessia Che è questa qua Tipo così Perché faceva freddo Quindi niente Fa parte il mio outfit Però vabbè Buona E sotto Avevo le Vans Ok Ci vediamo domani Con il prossimo outfit Allora oggi sono andata Vabbè L'avrete visto Però sono andata con Un outfit total Bershka Quindi tutti e due Sono di Bershka Sia la maglia Che i pantaloni Questi pantaloni qua Strappati Appunto Mom jeans A vita alta Con questa maglia Così Molto a caso Cioè nel senso Un outfit abbastanza Scialla Però comunque Mi piace abbastanza Come outfit Ah, e sotto Ho messo le Vans Ma vedrete che le Vans Le metto sempre Perché sì Sono fighe Voilà Allora Ultimissimo giorno Ovvero sabato In realtà oggi Non è sabato Ma è lunedì Ma è perché io Sabato ho indossato Leggings e maglietta Però diciamo Mi sono scordata di registrarvelo E vabbè Quindi vi mostro l'outfit di oggi Ho indossato Leggings e maglietta Perché Avevo ginnastica E non ci possiamo cambiare Perché non possiamo Appunto Utilizzare gli spoetogli Vabbè Lasciate perdere i miei capelli Bellissimi Legati su Vabbè Quindi vi faccio vedere Il mio outfit di oggi Allora Innanzitutto abbiamo questi jeans qua Che mi sembra siano di Terranova Non è vero Sono di Bershka Ho appena letto I bottoni qua Perché ho visto che c'era una scritta E c'è scritto Bershka Quindi sono di Bershka Sì Alessia Bravissima Oh raga Ma io ero convinta Che fossero di Terranova Convintissima Vabbè Che sono questi qua Appunto Boyfriend Che hanno tipo Non so come si chiamano Se è a caramella Boh non lo so Non credo nemmeno si veda Ok sì Vedete che c'è tipo L'elastico qua Vabbè Non importa a nessuno E in più abbiamo Questa maglietta qua Di Terranova Molto semplice E sotto le Vans Come tutti i giorni Perché niente Sono molto originale Con le scarpe E nulla raga Appunto il video Si conclude qua Perché vi ho fatto ormai Vedere tutti gli outfit Di tutta la settimana Quindi appunto Non è che mi posso inventare Altre cose Spero che il video Vi sia piaciuto Se volete Ve lo rifaccio Però in tema Invernale Invernale Nel senso che vi rifaccio Come praticamente Questo video Di tutti In cui vi faccio vedere Tutti i miei outfit Appunto Ricreo questo video Solamente verso Dicembre o gennaio Così Che inizia a fare Molto più freddo E quindi inizio a mettere Anche maglioncini Eccetera Quindi se volete Se volete Ve lo ripropongo Sotto questo aspetto Perché secondo me È molto interessante Visto che adesso Ok io sto mettendo I vestiti che metto Appunto per settembre Ottobre Così Visto che non è Troppissimo freddo E però appunto Se non rivolete Fatemi sapere Sui miei social Trovate tutto quanto Nella descrizione Nulla ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Se è così Lasciate tanti pollicioni In su Iscrivetevi al canale E attivate le notifiche Per non perdere nessun video Così che arriviamo subito Ai 30.000 E seguitemi su Instagram Principalmente Così che arriviamo subito Ai 3.000 E però in generale Seguitemi su tutti i social Che come al solito Trovate nella descrizione Sono attiva su tutto E nulla Vi mando un bacione E noi ci vediamo Tutti lunedì Mercoledì E venerdì Alle 2 Del pomeriggio Con nuovi video Qui sul canale Ciao Ciao